Il canavese è terra di bici. Stiamo parlando di Sutta Latour di Salassa, stasera siamo con Walter Rolando presidente della società pubblica Sede Salassa e siamo con Fabio Tocci che invece è il tesoriere di Sutta Latour. Bello perché credo che sia alla fine la filosofia dell'istorto, cioè quella di essere presenti, vivi, scalcianti, in questo caso pedalando forte e valorizzando il territorio ancora che molti potranno. E abbiamo un territorio fantastico.